Oggi, venerdì 13 febbraio, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Maria invita subito i tronisti e Jack a prendere posto poi annuncia l'arrivo di Renato Zero, aliastina in Il Triangolo, formidabile performance. A questo punto Maria fa sistemare due sedute accanto a Tina e chiama Salvatore e Teresa che fanno il loro ingresso salutati dall'applauso caloroso del pubblico, sembra che Teresa abbia fatto continua scenate di gelosia al suo fidanzato ma lei assicura che è geloso anche lui, Fabio sembra turbato e trova strana la situazione ma è tutto a posto. Subito dopo la scorsa puntata Fabio conosce le sue corteggiatrici, un video ne propone le immagini, alcune parlano, altre ballano, altre ancora si complimentano con lui, poi decide chi tenere, ma anche oggi una lunga sequenza di ragazze si presenta per lui, Gianni stesso è stupito e trova che sia un po' esagerato, Maria spiega che questo è solo l'effetto internet perché quando è diventato tronista sono arrivate altre 900. Richieste, lui ringrazia molto ma dice che non è facile così, neanche per noi dice Maria. Entrano Mariano, Agostino e Gianluca, andati in esterna con Valentina, Amedeo e Fabio sono usciti entrambi con Nicole, Nadia e Jessica sono uscite con Amedeo invece Silvia e Martina con Fabio. Agostino ha un pensierino per la tronista e sperava anche di incontrarla sul treno ma ha seguito le disposizioni della redazione, nell'esterna con Gianluca si trovano all'aperto e simulano una battaglia virtuale, poi lui lamenta l'attenzione dedicata a Mariano e Valentino gli spiega che, magari esagerando però Mariano fa qualcosa, però lui le dice che Mariano si era lasciato tre giorni prima di arrivare in trasmissione, poi si sfila un anello e glielo regala. In studio Mariano non lascia correre e subito replica alle accuse del rivale, i due discutono ma Amedeo è dell'avviso che Gianluca faccia bene a dire quello che sa, perché dà modo anche a lei di conoscere meglio chi ha davanti. Qualcuno si lamenta di non essere andato in esterna e la tronista replica che vede molta calma piatta in studio, intanto Davide ha un piccolo dono per lei, poi si balla. Mariano sta aspettando Valentina e intanto prepara una pizza, la redazione lo informa che lei non arriverà e lui spazientito fa per andarsene ma ecco che arriva lei, inevitabile parlare della sua precedente storia, lui garantisce che gli piace e che fra loro c'è feeling, lei ammette che la smuove ma non si fida del tutto. Interrogata se si fiderebbe di lui Teresa risponde di no perché lo vede un po' paraculo. Rishò prima e panchina poi per l'esterna con Agostino, i due parlano a lungo e si trovano bene tanto che lei lo considera per ora il più coerente, Mariano dichiara di essere già seccato da questo feeling. Due sedute anche accanto a Jack per l'arrivo in studio di Jonas e Ramalaila con, il piccolo Zenzi al quale sono cresciuti i capelli. Abbracci per tutti e poi Maria chiede come vanno le cose, entrambi dicono bene, si divertono un sacco ma entrambi si lamentano, scherzosamente, dell'altro, Jonas si è trasferito a Ibiza dove a breve andrà anche Ramalaila, ma non a vivere per ora, poi l'extronista sorride stupefatto per le tantissime ragazze che vengono per Fabio, c'è allegria in studio. Nicole in esterna con Amedeo lo aspetta in un appartamento e lo mette alla prova con ferro da stiro e moccio poi gli dice che Fabio le piace esteticamente ma lui caratterialmente e questo la spiazza perché le cose devono coincidere, con Fabio incontro all'aperto con travestimento carnevalizio, lui la trova furba e le dice che non la porterà più in esterna fin c'è non si sarà schiarita le idee, lei ci rimane male ma quando la redazione dichiara che mancano due minuti lei bisbiglia meno male. Fabio la chiude l'iseccato e in studio ribadisce il suo punto di visto anche perché ci sono tante ragazze e allora meglio lasciare spazio a chissà cosa vuole, Amedeo invece pensa che se una persona gli piace non è importante per chi scende, ma Fabio ricorda che per troppi mesi ha vissuto nell'incertezza, vedi trono Teresa, oggi vuole certezze. Tenda arabeggiante e danza del ventre per Amedeo e Nadia, l'esterna sembra cominciata bene ma si chiude bruscamente per mancanza di contenuti. Il tronista, che già le aveva detto di essersela giocata male nella precedente puntata, ribadisce la sua sorpresa negativa anche in questa. Nadia sostiene che il suo atteggiamento è conseguente alla dichiarazione del tronista, non sono qui per innamorarmi ma poi ammette di non essere capace di corteggiare e Tina la attacca cosa vieni a fare in trasmissione. È sera e sotto un piumone Fabio e Silvia familiarizzano, lei gli dice anche che non uscirebbe con Amedeo, lui è sereno e sorridente, anche Tina li ha visti bene, magari si sono abbracciati troppo. New entry per Amedeo e Valentina, a Teresa non piace nessuno, pochi anche a Tina, Valentina è stata colpita da Raffaele e Gian Maria e rimangono solo loro.